Ma cos'è? Posso andare alla festa di Luca stasera? Se vuoi puoi chiamare la mamma di Luca così vi mettete d'accordo. Chiede a tuo padre, chiede a tuo padre, vedi cosa ti dice e poi vediamo. Ma posso andare alla festa di Luca oggi? Ah ma chiedere a tua madre questa cosa, io... Ma mi ho detto di chiedere a te. Non mi interessa. Quindi posso andare alla festa? Tuo padre cosa ha detto? E non mi ha detto di chiedere a te. Eh non mi chiedi glielo. Eh ma... Ha detto di chiedere a te posso andare alla festa? Ah a tua madre chiede. Posso andare. Chiede a tuo padre. A tua madre. Tuo padre. Tuo padre. Tuo padre. Oh e posso andare? Tanto dovete andare a bere alcolici vero? No. Io già me lo immagino guarda che devono bere le cose lì. No. Dovete andare anche a fumare gli spinelli come minimo. Eh sicuramente dovranno anche quelli con i tatuaggi ladri schifosi delinquenti. No. No. Ci sono anche ragazzine vero? Ah no. Che dovete fare le cose con le ragazzine come minimo. Ohia ma non fermaci pensare a queste cose guarda. No. No no. No no. E cosa cazzo andate a fare alla festa? Ohia. Ah fa culo eh che sei sempre in terra eh.